Gentili telespettatori, buona giornata. Che cos'è il bonus 600 euro di Draghi? Cos'è e perché conviene? Così le buste paghe saranno più pesanti. Quindi, nell'ultimi 40 anni in Italia, secondo i dati ufficiali, il valore reale degli stipendi è diminuito del 2,9%. Si stava meglio più di 40 anni fa. Lo stipendio valeva di più, era più pesante. E' possibile migliorare oggi il potere d'acquisto senza generare una nuova spesa pubblica a debito? La risposta? Qualcuno dice che sì, qualcuno dice che no. Beh, diciamo che bisognerà cambiare molte cose. Intanto i contratti del lavoro devono essere riportati alla realtà, devono essere poi anche assolutamente attualizzati. Molti sono scaduti, molti sono obsoleti, i sindacati non fanno più i sindacati. Letta propone una quattordicesima mensilità, che costerebbe 19 miliardi per ogni anno. Dato che per garantirla si dovrebbero abbonare a tutti i lavoratori fino a circa 29.000 euro l'ordi l'anno, oltre il 7,5% dei contributi, lasciando però la pensione inalterata. Beh, diciamo che i 600 euro di Diraghi, con l'articolo 12 del decreto legge numero 115-2022, il decreto aiuti bis, ha previsto che le somme versate dal datore di lavoro ai lavoratori, esentate dal pagamento di contributi sociali e imposte previste dall'articolo 51,3 del testo unico, delle imposte sui redditi nel limite di 258,23 euro, per l'anno 2022 vengono elevate a 600 euro, ed erogate in modo semplice e diretto come rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento di bollette di acqua, luce e gas. Si tratta di 600 euro deducibili per il datore di lavoro e netti per il lavoratore, che non generano alcun incremento di pensione non essendo assoggettati a contribuzione. E' interessante, nel senso che il lavoratore riceve 600 euro, il datore di lavoro li scarica, questi 600 euro non contribuiscono ad incrementare la pensione, non sono assoggettati a contribuzione. Se si estendesse questa innovazione anche al welfare aziendale, eliminando l'eccessivo iter burocratico, che ha affossato la possibilità di percepire fino a 3.000 euro in esenzione fiscale e contributiva, e lo si portasse a 2.000 euro a noi netti, l'incremento medio per i redditi fino a 15-25.000 euro sarebbe rispettivamente del 14,7 e dell'8,8%. Il governo Draghi ha inoltre previsto in modo sperimentale il bonus trasporti pari a 60 euro. Se al posto del click day si copiasse la vicina Svizzera e si portasse la quota di rimborso del datore di lavoro a 600 euro l'anno con le stesse esenzioni già indicate, e se al posto dei miseri 6,5 euro al giorno per il buono pasto cartaceo e gli 8 euro per quello elettronico si elevasse la cifra a 12 euro, sempre a carico del datore di lavoro e con le esenzioni indicate, i dipendenti si troverebbero un ulteriore netto di 900 euro all'anno. Beh, insomma, ci sono dei metodi per un paese indebitato come il nostro per cercare di far vivere meglio le persone con degli stipendi un po' più accettabili, diciamo così. Diciamo che poi la differenza tra decontribuzione e queste erogazioni di retribuzioni esenti è che la prima costa allo Stato sia per trasferimenti di contributi figurativi agli enti previdenziali sia per rivalutazione degli stessi e poi come pagamento della pensione mentre l'erogazione fa perdere allo Stato solo l'IRPEF in media per redditi fino a 25.000 euro con pensione a carico, meno del 5%, che viene poi abbondantemente recuperata con la tassazione diretta e indiretta quando queste somme vengono spese ed essendo a totale carico delle imprese non genera oneri per lo Stato. L'aumento netto in busta paga aumenterebbe a 3.500 euro l'anno, ben il 10% per un lordo di 35.000 euro e il 17,5% per 20.000 euro lordi, portando i redditi italiani a livello dei migliori paesi europei. E anche per gli autonomi si possono studiare misure compensative. Pertanto ci sono dei metodi per non gravare troppo sulle spese di uno Stato indebitato, per non gravare troppo sulle aziende. Qualcosa si può fare per migliorare il potere di acquisto delle retribuzioni. Finora però è stato fatto e non fatto. Insomma, vedremo adesso il nuovo governo, qualunque esso sia, che cosa vorrà fare, quali saranno le misure, perché diciamo che chi andrà a governare queste cose non lo sa, dovrà affidarsi a degli economisti, perché nessuno arriva al governo e dice beh, adesso facciamola, tutta questa cosa che vi ho spiegato. Insomma, ci devono essere delle persone preposte che conoscono questo tipo di tecniche per alzare il potere d'acquisto. Vedremo intanto quello che succederà dal 25 di settembre. I sondaggisti dicono che ci saranno delle sorprese, sono proprio curioso di vedere cosa saranno queste sorprese, se ci saranno, se saranno positive per il centro-destra, negative, positive per la sinistra, negative, per il polo di centro. Vedremo quello che succederà. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Mentre poi c'è anche un altro canale che si chiama In Cucina con Carla, dove ci sono delle ricette appunto di preparazioni di piatti internazionali. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.